Noi da quanto sono stato ministro abbiamo deciso di puntare sullo sport come strumento anche della nostra politica estera. Abbiamo organizzato una serie di eventi, abbiamo lavorato con molte federazioni, abbiamo organizzato anche una presentazione della giornata italiana dello sport nel mondo che è un modo di far conoscere l'Italia, di far pesare di più l'Italia. La politica estera che fanno anche gli atleti, di far conoscere il nostro saper fare in questo settore è uno strumento utile anche per far contare di più l'Italia.